Partiti. I rapper si porta deciso al comando nei confronti di Aconiton e Vivimi. A largo è Nanga Jambu che si propone tra i primi, poi ancora Fera che lascia in coda bello e profumato. All'imbocco della curva Nanga Jambu si propone all'esterno di I Rapper e i due sono apparigliati davanti ad Aconiton e Vivimi. A largo dei primi è anche Fera che lascia in coda bello e profumato. Gruppetto comunque molto ben riunito all'imbocco della retta di arrivo con I Rapper all'interno, Nanga Jambu al suo esterno, poi per linee interne a Coditon segue Vivimi a centropista Fera ed in coda bello e profumato. Siamo a 500 dal palo, I Rapper sta allungando ma è sotto la minaccia decisa di Nanga Jambu che sta passando. Lo attacca e passa Nanga Jambu mentre a centropista si propone Vivimi. Siamo a 300 dal palo, si riprende all'interno I Rapper su Nanga Jambu e Vivimi. I tre sono in lotta, I Rapper è tornato in vantaggio, Cala Namba Jambu e I Rapper deve subire l'attacco di Vivimi all'esterno ma nel finale I Rapper mantiene la meglio e si impone. Mentre per il terzo posto Aconiton tiene Abbada bello e profumato. Andiamo a rivedere le immagini con I Rapper che dopo essere andato al comando ed essere stato attaccato duramente da Nanga Jambu e poi ripartito per mantenere la meglio fin sul palo. Il numero tre di I Rapper, il cinque di Vivimi e al terzo posto il sei di Aconiton. Quindi tre, cinque, sei, il probabile ufficioso arrivo della quarta corsa di Napoli. Grazie.